Apriamo il nostro cuore, facciamo vibrare il nostro cuore e facciamo sentire il nostro cuore all'unisono con il cuore di Gesù, del Maestro. Dobbiamo far battere lo stesso nostro cuore con il cuore di Gesù fino a fondersi. Lo stesso Sampio lo scrive nel 1912 al suo padre spirituale, il quale racconta che una mattina il suo cuore era all'unisono con il cuore di Gesù, un cuore infuocato, parla di fusione dei cuori. Ecco, vogliamo fondere il nostro cuore con il cuore del Maestro Gesù. I Santi, gli Apostoli, i Discepoli sono gli amici del Signore, sono coloro che hanno ascoltato e hanno fatto propria la sua parola, una parola che è vita, una parola che è vita, gioia ed è pace. Allora, fratelli e sorelle, vogliamo veramente, ecco in questa celebrazione, ringraziare e rendere l'uode al Signore perché ci ha donato dei pastori, ci ha donato degli Apostoli veri, coraggiosi, che hanno annunciato e testimoniato anche con il sangue. La parola del Signore. Così sia.